Condisco 150 g di passata di pomodoro con origano secca a sentimento, sale e olio evo quanto basta. Mescolo, mescolo e metto da parte. Mi servirà successivamente. Sistemo su una teglia affoderata con carta forno le fette di pan carré, le affianco per bene e ricopro tutta la teglia. Distribuisco sopra tutta la passata di pomodoro condita. Sistemo 150 g di fette di pomodoro. Aggiungo le fette di prosciutto cotto e 150 g di scamorza a cubetti. Infine aggiungo le fette di provola. Chiudo con la pasta sfoglia, rimuovo la carta forno presente nella confezione. Sigillo per bene i bordi e bucarello la superficie. Poi spennello la superficie con un filino di olio. Cospargo di semi di sesamo. In forno e lascio cuocere in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 30-35 minuti o fino a quando la superficie risulterà bella dorata. Ed ecco a voi miei carissimi amici la pizza parigina furba. Prima di portarla in tavola l'ho lasciata intiepidire per 5 minuti. Veloce, facile e tanto friabile. Con pochi impegni e poco tempo possiamo realizzare un rustico di pasta sfoglia ideale per antipasti aperitivo. Semplicemente un salva cena. Tanto filante, super goloso e super gustoso. Veloce, semplicemente un salto. Grazie a tutti.